ciao ragazzi buona bene snaiball oggi siamo ritornati e non è il gioco io sono proprio gioco qua volevo dirvi che vediamo se è il gioco e non è il gioco quanto ormai questo che ci arriverà tutto il tutorial ma ci sarà un po' difficile perchè il gioco è molto furbo e anche avrò paura perchè è molto furbo non è neanche più questo andiamo fuori della macchina è meglio ah lì raga lì c'è la scuola lì 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 si sa tutto che ti faccio tutto se non si fa stercito già io sto gioco ai babbi riuscino dove sei? riuscino tre un, due un, due un, due un, due un, due un, due bacchiamo la conga un, due un, due un, due un, due a presto per questo video attuale e Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.